Buonasera a tutti, io sono Martina e questo è Top 10 Nerd e nel video di oggi vi parlerò dei tipi di serie tv che io amo, non parlandovi delle serie tv nello specifico, ma in generale i tipi insomma. Ma prima di iniziare vi devo ovviamente specificare che questo è un video in collaborazione con il canale YouTube Aris World, di cui vi lascio linkato in descrizione il canale oppure il video che deve fare lei, non lo so, poi dipende, lei deve fare il video dei tipi di serie tv che invece odia, vi invito ad iscrivervi ad entrambi i canali, a lasciare un mi piace, a seguirmi su Instagram, inoltre poi diciamo che ci scambieremo il video, nel senso che io farò il video di quelle che non mi piacciono e di quelle che le piacciono invece, per cui ovviamente vi invito ad iscrivervi ai canali per restare sintonizzati se vi può interessare e se non vi interessa iscrivetevi comunque. Ok? Comunque iniziamo subito i tipi di serie tv che mi piacciono. Allora a me piacciono quelle serie che in qualche modo mi colpiscono, che sia per la particolarità della trama o per delle scelte narrative o per i personaggi, insomma in qualche modo mi deve colpire, se no non mi prende e non mi interessa molto semplicemente. Inoltre mi piacciono molto le serie diciamo uniche nel loro genere, cioè che non devono avere diciamo altre 10.000 serie simili, se no non mi interessa anche se magari la serie è valida, comunque non mi interessa guardarla. E di fatti ultimamente sto droppando diverse serie perché per il fatto che ne producono comunque a miriade è difficile trovare qualcosa diciamo originale, ma comunque ci sono diversi prodotti originali e validi e quindi è un po' più difficile adesso, ma non è assolutamente impossibile. Poi a me piacciono inoltre le serie tv con dei buoni personaggi e con quei personaggi caratterizzati bene, perché io tengo molto i personaggi, per me sono assolutamente importantissimi, io i personaggi mi ci affeziono, con alcuni divento anche tipo iper protettiva, per cui se in una serie vedo tutti i personaggi che mi stanno antipatici o che comunque sono caratterizzati mali, la serie non la guardo assolutamente, perché per l'appunto per me sono importanti i personaggi e non esiste che io mi metta a guardare qualcosa con personaggi che odio interamente o che sono fatti tanto per. Ovviamente anche nelle serie che mi piacciono ci sono dei personaggi che che non mi vanno a genio, che comunque si vede che sono stati fatti tanto per, ma comunque in linea di massima devono piacermi ed essere fatti bene, altrimenti la serie non esiste che io la guardi. Passando invece ai generi, ultimamente mi sto appassionando allo sci-fi, cioè mi piaceva già infatti, come ormai saprete, sono una grande fan di Doctor Who, però a parte quello non è che avessi visto chissà quanto altro del genere, però ultimamente mi sto avvicinando un po' di più al genere, poi magari vi farò un video al riguardo in futuro. Invece un altro genere che a me fa impazzire sono i costume drama, ossia tutte quelle serie ambientate nel passato sia basate su eventi reali che diciamo fittizie e se sono basate su eventi reali comunque io amo quelle che hanno una certa fedeltà con la storia originale, ad esempio The Crown è incredibilmente simile alla vera storia della regina Elisabetta ed è uno dei tanti motivi per i quali io amo quella serie, ho anche ad esempio Victoria, ci sono un po' di sottotrame, però la parte importante diciamo è fedele e alla fine è quello ciò che conta. Ovvio che magari ci possono essere delle sottotrame, però la storia principale deve essere quella e soprattutto io non sopporto gli errori culturali, per cui se una serie costume drama mi piace non deve assolutamente avere errori culturali, se no mi viene l'orticaria proprio solo pensarci insomma. E poi comunque mi piacciono anche molto le serie dove ci si commuove spesso fondamentalmente perché sono masochista credo infatti la maggior parte delle serie tv che guardo, se no proprio tutte, no vabbè qualcuna al no, nella maggior parte delle serie tv che guardo si piange e si piange anche parecchio. Non lo so perché, fondamentalmente forse perché diciamo che in questo modo la prova che sono affezionata ai personaggi se succede a loro qualcosa è brutto, ma comunque il fatto che una serie riesce a commuovere comunque significa che è fatta bene, che ti prende e quindi diciamo che è un po' raggiunto il suo scopo di colpirmi e quindi probabilmente per questo che mi piacciono un sacco le serie dove si piange parecchio, non per niente io adoro Doctor Who insomma. Quindi amo anche quelle serie che all'apparenza sono diciamo un po' buffe, un po' no sense, però hanno anche diversi messaggi anche profondi, ci sono diverse serie di questo tipo che mi piacciono, che all'apparenza tu dici oddio che caspita sto guardando, ma poi alla fin fine lasciano diversi messaggi profondi. amo inoltre diciamo le serie con diversi cliffhanger e colpi di scena perché per l'appunto se rimango incollata allo schermo significa che per l'appunto mi ha presa e che mi ha colpita, quindi diciamo che tutto questo si collega al primo punto, ossia che la serie che mi piace è una serie che mi colpisce, quindi diciamo che tutto questo si collega sempre al primo punto che io ho detto, che è assolutamente il più importante. Quindi niente, questi erano i tipi di serie tv che mi piacciono, fatemi sapere quali sono i tipi di serie tv che piacciono a voi con un commento, mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale mio e di Aris World e noi ci vediamo alla prossima!